Tutto pronto a secca grande per la nona edizione del Pizza Fest. Si parte con un corteo inaugurale previsto domani alle 19 che vedrà sfilare per il lungomare Gagarin i tamburini sicani di Ribera che daranno ufficialmente il via agli eventi. La prima serata di spettacoli ospitata nell'area live sarà una serata all'insegna dell'allegria e della comicità con Sicilia Cabaret Live Show. Lo spettacolo di Cabaret con tutto il cast della nota trasmissione condotta da Matrang e Minafo, i cui personaggi hanno conquistato il pubblico siciliano e non solo, oltre a spopolare sui social. La loro esibizione era inizialmente prevista il 1 settembre, poi annullata a causa del mattempo e posticipata a domani. Di fatto il Pizza Fest si svolgerà dunque in quattro serate, una in più rispetto alla programmazione iniziale. Dopo lo spettacolo di Sicilia Cabaret fissato per domani, venerdì 13 settembre si partirà con i concerti. Alle ore 21 si esibirà la band Isy Cania e alle 22 prendere il via l'atteso concerto di Arisa. Sabato 14 settembre, in apertura di serata, si esibiranno le cantanti riberesi Denise Lombardo e Simona Cervello, che alle 22 lasceranno il parco alla intramontabile voce di Patti Pravo. Chiusura Rocca il 15 settembre, infine, con Do di Battaglia, che scalderà il pubblico del Pizza Fest dopo il mini concerto di apertura di Ilenia Cervello. Sul palcoscenico allestito tra il lungomare Gagarin e la spiaggia, dove gli spettacoli saranno presentati da Rosi Abruzzo ed Ernesto Trapanese, si alterneranno alcuni momenti di premiazione di artisti locali, che si sono distinti per particolari meriti, e un breve talk show sabato sera, con ospite l'assessore regionale all'agricoltura Eddie Bandiera. Da non perdere per gli appassionati del genere, il raduno d'auto d'epoca, a cura del club Il Volante Storico, in programma domenica 15 sul lungomare Gagarin, a partire dalle ore 15. Arricchite le aree tematiche allestite anche quest'anno, l'area food, ossia il village del gusto, animato dai bianchi forni in pietra, che prepareranno centinaia di pizze sotto le stelle per turisti e visitatori. L'area expo, con in vetrina i prodotti tipici locali siciliani, l'area live, dove ogni sera si tengono gli spettacoli e la nuova area masterclass. È ancora possibile acquistare abbonamenti o singoli ticket per gli spettacoli in programma, seguendo le indicazioni presenti sulla pagina Facebook dell'evento.